musica beh è strano che il mio pilota non è morto oh cazzo 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 ah pirata abbiamo perso certo 4 e 9 in difesa un tipo un tipo un tipo un tipo un tipo utente un tipo una Oh, che cazzo, meno male. C'è l'anima di tua sorella. Ebbia dello nel culo sto missile. Eh, mo lo prendi, fangool. Io mi devo capire perché Guido è spericolato, non c'è nessuno più a sparare. Sì, musichetta trionfale, si muove veloce, muoviti! Che cacchio stiamo aspettando? Sì, 2-1-2, qui a Shark 4-6. Vi unisco ora la formazione d'attacco. Qui Bulldog 3-3, siamo in due in avvicinamento da ore 9. Roger! Sì, 2-1-2. Olè! Abbiamo pezzo Bulldog 3-2! Eh, non solo lui. Ok, c'è un sistema di Bulldog 3-2. Perché le mani fanno così? Sì! Allora? Per il lancio delle J-DAM. Dannazione! Quei colpi ci stanno avvicinando troppo! Quattro sei, passagli a Ghia... Posso nemmeno sparare! Per il Neoki, spazza la modalità di attacco al suono! Inizia l'uninario suono! Assicurati di avere un buon aggancio al loro radar prima di sparare! Si traccia con impostazioni! Eh, non spara! Cazzo! Finalmente! Torpo di rotto! Provociamo che ci abbraccio! C'è un mercato! Conto perfetto! Vinti, e questo lo becchi in dritto una legge in Giva, bastardo! Sì! 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 Quattro sei, riperuno! Rileviamo autocistelle in movimento! Sembrano dirette verso il caccia! Ricevuto? Strati al due due! Stiamo illuminando i bersagli per voi! Ricevuto? Roger! Stiamo arrivando... Quattro sei, ricevuto! Quattro sei, ricevuto! Ok, ok! Passagli tra rosso e trovali! Givano... Sì! Un mercato! Quattro sei, quattro sei... Quattro sei, quattro sei, finesse di attivare... Un gestione a una oltre da pista! P 발... ...perfetto! Perfetto! Perfetto! Givano... Givano... perfetto e vabbè però perfetto, 1 4x1, c'è un altro caccia che sta per occupare la pista perfetto anche se questo mi dico un po' a culo quella era l'ultimo 4x1, tra i veicoli che si muovono lungo la pista potrebbe essere il vostro vip, attendere 4x6, pronti a ingaggiare in caso di conferma del bersaglio ricevuto 4x6, qui 3x1 dobbiamo farli uscire dalle macchine per verificare il vostro vip restate in attesa per l'attacco Roger Bulldog 3x3 mi dice ancora un wait come che... Roger 2 secondi perfetto distruzione totale no no Roger, 3 secondi ma questo qua com'è morto quello che sta qua ma questo qua com'è morto quello che sta qua luk sono tuo padre OB212 charger 4x6 allontanamento dall'area bersaglio Roger grotta 040 attenzione al traffico in mare 212 chiudo grazie per la missione ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao scherzavo ancora non è finito hehehe 4x6 ancora 3 km giù il gatto Shark 4x6 gance è sceso sei messo bene Shark 4x6 sul sentiero mi portano a casa ci sono lo porto a giù 20 nodi perfetto non ho ancora capito che sto facendo però la parte dell'atterraggio la potevano anche evitare cioè non la vedo è una cosa molto utile quindi beh che attendiamo ah ok finito così vabbè al prossimo video ciao ciao ciao